Care amiche, oggi parleremo di prevenzione e in particolare il tema sarà la caduta dei capelli. Buona visione! Le cause che portano alla caduta dei capelli possono essere diverse, stress, cambiamenti climatici, problematiche particolari, dunque in alcuni periodi dell'anno è opportuno intervenire con un percorso anticaduta. È necessario pulire bene la cute con un prodotto esfoliante per prepararla al trattamento e fare in modo che i principi attivi penetrano in profondità. Applico Scalp Exfoliate sulla cute ed eseguo il massaggio stimolante e detossinante per 5 minuti. Dopo aver sciacquato Scalp Exfoliate inizio il percorso con lo shampoo Densifying, dopo averlo applicato eseguo il massaggio detergente e rilassante. Dopo aver sciacquato proseguo il trattamento con Extreme Drop, una fiera d'urto ad azione potenziata con estratti di mirtillo e cellule staminali della mela. Faccio delle sezioni in cute, applico il prodotto e lo faccio penetrare. Questa lozione contribuisce a ridurre la caduta e stimolare la ricrescita del capello. Procedo con il massaggio veicolante. Concludo il trattamento con Densifying Spray, che ha un effetto corporizzante per i capelli e riequilibrante per la cute. Terminato il percorso densificante, i capelli risultano corposi, compatti, più ricchi e hanno la sensazione di spessore già con le mani. Ricordiamo alla nostra cliente che deve continuare il trattamento a casa per rinforzare i capelli e per mantenere la chioma fluente nel tempo. Vi aspettiamo in salone!